Allora abbiamo avuto un comunicato della Soressa dove dice che ci ha revocato le commesse, le commesse all'America Lampi, quindi noi il 31 dicembre siamo operai senza lavoro, non sappiamo né con chi lavoriamo e né se lavoriamo, siamo qui in balia delle onde, nessuno ci dà la risposta, la prefettura ci ha mandato alla Soressa, la Soressa ci ha mandato alla prefettura e siamo ancora qua chiedendo una risposta. Vogliamo una risposta da qualcuno, chiunque si sia. Vogliamo una risposta da qualcuno, chiunque si sia. Vogliamo una risposta da qualcuno, chiunque si sia. Vogliamo una risposta da qualcuno, chiunque si sia.